Mi porto nel mio ufficio a casa. Andiamo. Oggi voglio parlarvi degli investimenti e dei vantaggi che ne derivano. Sono direttore esecutivo di Aliot Club, una società finanziaria con un fatturato di oltre 100 milioni di dollari nell'ultimo anno, con esperienza nel trading commerciale, nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie da più di due anni. Personalmente investo da più di dieci anni, ma come la maggior parte degli investitori non sempre ho avuto successo. Prima di entrare nel mondo finanziario ho lavorato come responsabile commerciale per un'importante azienda in Nuova Zelanda. È stata quell'esperienza che mi ha mostrato l'enorme potenziale di investimento delle fonti energetiche rinnovabili. Ero felice del mio lavoro, ma come tutti gli altri volevo di più. Un giorno un mio amico mi ha proposto di investire un po' di soldi in una start-up impegnata nel design di interni. Così ho deciso di provare. Un paio di settimane dopo il mio amico mi ha detto che l'azienda stava chiudendo. Ergo non ne ho ricavato alcun profitto. Mi sono reso conto che l'unica ragione per cui ciò era accaduto era che mi fidavo di qualcuno senza la giusta conoscenza. E per questo motivo ho deciso di diventare anch'io un professionista. Ho iniziato a leggere molto sugli investimenti e frequentare corsi di perfezionamento allo stesso tempo. Ho continuato a lavorare nell'ufficio della società di energia, ma giorno dopo giorno ero più interessato a tutte le opportunità che offrono investimenti intelligenti. Alcuni dei miei clienti erano già investitori di successo ed erano felici di condividere con me la loro esperienza in questo settore. Sono grato per questa conoscenza, perché i principi fondamentali di Elliot Club sono le partnership aperte, l'assistenza ai partner e la consulenza per i partner. Così ho iniziato a investire, poi ho analizzato i rischi e ho iniziato a investire. Il mio primo investimento ha ottenuto circa il 30% in cambio nei primi sei mesi. Era un servizio di sconti per startup per aziende online. Motivato, ho iniziato a investire sempre di più in differenti tecnologie perché ho capito che l'industria, così come le istituzioni finanziarie, si stavano espandendo rapidamente nel nostro paese. E ovviamente ad un certo punto ho dovuto lasciare il mio lavoro e dedicarmi interamente al mondo degli investimenti. La prima cosa e più importante è il tempo. Questa è la risorsa umana più elementare e con il tempo in più puoi fare di più per te stesso, esercitarti di più, praticare alcuni sport, più hobby e altre attività. Come ogni lavoro dalle 9 alle 5 sei sempre costretto ad adattare la tua vita personale al programma di lavoro. Come investitore puoi organizzare il tuo tempo e il tuo programma e lavorare quanto vuoi. Dopotutto il denaro investito funziona per te e porta un reddito passivo costante. E alla mia ragazza piaceva perché avevo sempre abbastanza tempo da passare con lei. Il prossimo vantaggio significativo è la mobilità. Puoi lavorare ovunque nel mondo in cui ci sia una connessione internet. In Elliot Club dedichiamo molto tempo e impegno per migliorare la mobilità della nostra piattaforma in modo che tu possa lavorare con facilità ovunque solo nel 2019 più di 1000 investitori privati sono diventati partner della nostra azienda. Grazie alla versatilità delle nostre soluzioni attiriamo investitori per i nostri diversi progetti di business come la produzione e la vendita di energie rinnovabili qui in Nuova Zelanda, i processi di trading nei mercati finanziari globali, le criptovalute e lo sviluppo generale dell'azienda. Il nostro team di supporto è sempre pronto a guidare i nostri partner in qualsiasi momento. Adesso arriviamo al punto. Come ogni attività il segno principale del successo è il denaro. Alcuni potrebbero dire che i rendimenti degli investimenti non sono qualcosa di stabile e sono d'accordo che l'attività di investimento è rischiosa. Ma in Elliot Club il rischio è sempre ridotto al minimo dalle nostre strategie intelligenti e altri strumenti finanziari che ci rendono di successo. Il vantaggio di un'attività di investimento è che le tue entrate sono illimitate e ovviamente il tuo profilo dipende dal volume dei tuoi investimenti e da una strategia di investimento intelligente. Elliot Club è anche una società di ricerca e lavoriamo con risorse ad alta tecnologia e in rapida crescita. Il nostro compito principale è monitorare i cambiamenti del mercato e rispondere correttamente il più rapidamente possibile. Il nostro team è composto da più di 20 analisti che ci forniscono uno strumento eccellente per garantire il successo nel mercato degli investimenti. Grazie all'analisi aziendale i nostri risultati finanziari sono diventati più stabili e progressivi nel 2019. Siamo stati in grado di aumentare con sicurezza il volume delle risorse utilizzate nei processi di trading. Un'analisi costante delle tendenze del mercato, delle singole istituzioni finanziarie e di altre organizzazioni ci consente di adattare le attuali strategie di trading in tempo e di svilupparne di nuove. In Elliot Club apprezziamo le relazioni umane e personalmente in qualità di direttore esecutivo sono sempre pronto ad aiutare ai partner e ai leader della nostra azienda. Teniamo regolarmente riunioni con i nostri partner fuori dall'ufficio, per un pranzo o un caffè ad esempio, dove possiamo discutere di tutte le nuove opportunità di investimento e dei vantaggi di lavorare insieme. Se ti trovi in una città o in un paese diverso, possiamo organizzare e tenere una riunione online in qualsiasi momento. Finché disponi di una connessione internet, possiamo sempre chattare e discutere i dettagli sulla collaborazione. Per qualsiasi domanda, puoi sempre contattarmi tramite il nostro sito web utilizzando la sezione contatti. Sarò felice di chattare e aiutarti con qualsiasi domanda su come diventare il nostro prossimo partner. Sono Eric Barton e ci rivedremo presto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.